La Lega sono io, perché dobbiamo riprenderci il diritto alla pensione e al lavoro. Cancelliamo la vergogna della legge Fornero. Io firmo per cancellare la legge Fornero, per ridare dignità al lavoro e ai lavoratori e speranza di un futuro migliore ai giovani come me. Ha ingiustamente allungato la vita lavorativa di milioni di donne già impegnate nel lavoro familiare. C'è un'unica soluzione per ridare speranza e lavoro. Fuori dall'euro. Subito. Basta euro. Basta euro. Basta euro.